Per tutti gli appassionati di arte contemporanea e del filone barocco rinascimentale, nella suggestiva location del Castello Svevo di Termoli ha avuto luogo la mostra intitolata Artistici Incontri e avente come comune denominatore il tema dell'amore, declinato nelle varie forme nelle quali viene espresso attraverso raffigurazioni di scene e di vita quotidiana piuttosto che originali riproduzioni di eventi tratti dalla mitologia e rivisitati in chiave moderna. Le opere sono state esposte all'interno delle mura del Castello Svevo, inserite in una settimana di apertura al pubblico che ha potuto godere delle bellissime creazioni di due volti noti del panorama artistico nazionale e internazionale. Avevo un po' di timore perché comunque è uno stile che non si vede in giro, io ho girato gallerie, mostre, fiere, è uno stile che non si trova e quindi questo impatto per me è stato molto significativo, però devo dire che il pubblico c'è stato, i visitatori ne sono stati tanti perché comunque parliamo di un periodo di alta affluenza sia per la festività patronale sia per le ferie e quindi i visitatori sono stati tanti di ogni genere, dal piccolo, dal bambino al giovane al signore insomma di età. Diciamo che la risposta è stata positiva, molte emozioni, molte emozioni positive, sono molto contenta e molto soddisfatta. Roberto Ferri, io sono stata poco tempo fa, qualche anno fa a Sutri nella sua galleria e ho avuto il piacere di incontrarlo, ho avuto l'onore di essere ospitata durante il suo workshop e da lì praticamente ho vissuto, ho respirato quell'aria e ho trovato la mia origine, il mio scopo insomma. L'amore appunto domina ma a catturare l'attenzione è anche la femminilità di un volto di donna, il cui sogno va oltre ogni immaginazione. Sono un'insegnante di scultura, quindi principalmente però ho titoli e studi anche in pittura, però come dico ai miei allievi bisogna emozionarsi, fatemi emozionare, dico e facciamo sognare il mondo là fuori che non è più in grado di farlo, perché l'arte è un potente strumento creativo della nostra vita, cioè l'arte è uno strumento di comunicazione, quindi è una grande responsabilità fare arte sia per chi la produce che per chi ne fruisce e noi in questi giorni abbiamo cercato di parlare tanto dell'importanza di tornare a sognare, ma non come cosa prettamente astratta. Serve più che altro perché le persone ai giorni d'oggi non sanno più sognare, colpa che siamo anche abituati a criticare, quindi abbiamo un po' delle critiche, ma dobbiamo tornare a immaginare con gli occhi del cuore, con gli occhi della mente il nostro progetto realizzato e solo così potremo ottenere e vivere con l'arte o senza arte, ma partendo da noi stessi, un mondo migliore.